E' la nostra possibilità di trovare un pianeta abitabile. Alleveremo un nostro equipaggio. 3, addestrato in isolamento per prepararlo alla vita nello spazio. 2, sarà un viaggio di 86 anni. 1, io ho paura. Di cosa? Non sa niente di cui aver paura. Siete in legame con le future generazioni. Da voi dipende la sopravvivenza della specie. Ragazzi normali. Sensibili, intelligenti. Devo protegerli. C'è una tossina nell'acqua. E' da noi che viene. Mangiamo cose tossiche. E' il blu. E' un farmaco. Blu. Per ridurre il piacere. Blu. Io non lo bevo. Io voglio aumentare il piacere. Non senti ciò che sento io. Ma che succede? Voi ci drogate. Proprio per evitare questi problemi. Riavvio. Sistema. Non vedremo mai il pianeta. Voglio essere sincero. Su ogni cosa. Non può proteggervi. Proteggerci da cosa? Lascialo! Io ho paura. Non sai niente di cui aver paura. Il piacere fra d'Otrio. ro channel mayrolar. I'm lotrio!!!!! Di qui. Non sai niente di cui aver paura. Non sai niente di cui aver paura qui è veriti. Il piacere fra,... Il piacere fra duos violet...